Come ha fatto Dio in cielo a fare un uomo come Rambo? Non è stato Dio a fare Rambo. L'ho fatto io. Lei chi cavolo è? Sono Troutman. Colonnello Samuel Troutman. Abbiamo un po' da fare stamattina, colonnello. Che posso fare per lei? Sono venuto a prendere il mio ragazzo. Il suo ragazzo? L'ho reclutato io. L'ho addesfrato io. L'ho comandato in Vietnam per tre anni, sceriffo. Quindi posso dire che è mio. E come mai il Pentagono ha mandato addirittura un colonnello a occuparsi di questa storia? L'esercito ritiene che io possa aiutarvi. Va bene, non vedo in che modo. Rambo è un civile e adesso è un problema mio. Allora vedo che non ha capito. Io non sono qui per salvare Rambo da voi. Io sono qui per salvare voi da lui. Ebbene, noi tutti apprezziamo la sua offerta, colonnello. Cercheremo di tenere gli occhi aperti. Sono sorpreso che abbia lasciato in vita qualcuno di voi. Davvero? Teoricamente lui ha fallito. Lei è fortunata ad essere vivo. Questa è bella. Lei è venuto qui per sapere come mai una delle sue macchine ha fatto Cirecca. Sembra che lei non voglia accettare il fatto di avere di fronte un esperto in tecniche di guerriglia. Un uomo che è il migliore. Con i fucili, con i coltelli, a mani nude anche. Un uomo addestrato ad ignorare il dolore, ad ignorare il freddo, a vivere di quello che trova. A mangiare cose che farebbero vomitare una capra. In Vietnam il suo compito era di sbarazzarsi del nemico, di uccidere. Punto e basta. Di vincere aggredendo. Beh, Rambo era il migliore. Grazie a tutti. Grazie a tutti.